L'Associazione Terra delle Gravine ormai da nove anni propone un maestoso tour per Gravine Canyon dell'Arco Ionico. Il tour di quest'anno, intitolato Il Cammino dei Pitagorici, è stato organizzato in memoria di un evento storico antichissimo che risale a quando i pitagorici tarantini compivano annualmente, sul principio della primavera, una sorta di pellegrinaggio stagionale per recarsi a metà ponto per onorare la memoria del loro maestro. Il tour, partito giovedì 30 aprile, si è concluso domenica 3 maggio con l'ultima tappa a Castellaneta-Masseria-La Mastuola, dopo ben 112 chilometri di cammino. A loro arrivo gli escursionisti sono stati accolti dai soci dell'Associazione Amici delle Gravine di Castellaneta che li hanno accompagnati alla scoperta della gravina di Santo Stefano e all'omonima chiesa rupestre, unitamente a quella di San Michele. Gli Amici delle Gravine hanno voluto poi accompagnare i camminatori con una breve escursione nel centro storico di Castellaneta e sul ciglio della gravina grande, sino ai confini con Palagianello. Questa è la non edizione del Grand Tour, è un'iniziativa che la nostra associazione Terra delle Gravine interprende annualmente un viaggio in quattro giorni, a piedi, in quattro frazioni. Quest'anno l'abbiamo dedicato al cammino dei Pitagorici, un viaggio che gli antici filosofi pitagorici tarantini compivano annualmente da Taranto per ossequiare la tomba del loro maestro Pitagora a Metaponto. Nella terza e ultima frazione di viaggio abbiamo desiderato e siamo riusciti ad ottenere la collaborazione degli Amici delle Gravine di Castellaneta con i quali da diversi anni collaboriamo con uno scambio reciproco di visite e cogliamo l'occasione per ringraziarli per la disponibilità e dando loro tantissimi auguri di poter proseguire e ottenere ancora più lusinghieri risultati rispetto a quelli già lusinghieri che ottengono attualmente. Noi siamo appena all'inizio dell'ultima frazione di viaggio, la concluderemo questa sera speriamo intorno alle 6 a Masseria e la Mastuola, in territorio di Crispiano. L'associazione Amici delle Gravine di Castellaneta è felice e onorata di avere il grand tour della terra delle gravine. Sono la non edizione e quest'anno hanno fatto tappa nel nostro territorio. Noi siamo stati, come ho detto prima, felici e onorati di ospitarli.